Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics e benvenuti in questo short in cui spacchettiamo un pacchettino di Euro 2020, ve lo spacchetta la manita Ve lo apro subito subito in live Allora, partiamo subito, due giocatori Shuin e Zikia, ok, la quadra è l'Ucraina, poi abbiamo, uh, Ampadu ragazzi Galles Marlos e infine Milik per la Polonia Questo ci manca